In frammenti dice Senofane, 560 a.C., 478 a.C., filosofo e poeta greco della scuola eleatica, in frammenti dice Un solo Dio, fra gli dèi e tra gli uomini, grandissimo, non simile né per corpo né per mente ai mortali. Tutto intero vede, tutto intero pensa, tutto intero ode. Senza fatica, con la forza della mente, fa tremare ogni cosa. Sempre rimane nello stesso luogo, immobile, che non gli si addice spostarsi ora qua, ora là. Commento Forse Senofane intuiva la coscienza assoluta che è eterno presente. Grazie a tutti Grazie a tutti